Fare il futuro, ci parlerà il prossimo nostro ospite qui al Festival del Futuro, Head of Open Innovation di ELIS, Luciano De Propris. Vi ho trovato tante le parole chiave già solo nel titolo di questo keynote speech, costruzione, apprendimento, innovazione, impatto sociale. È davvero un mondo che sta cambiando? Sicuramente sì, nel senso abbiamo una complessità sempre maggiore, lo vediamo un po' tutti i giorni, anche continui stravolgimenti dei meccanismi e quindi dobbiamo imparare a convivere e anzi a navigarci dentro. Le lascio la parola, mi metto in ascolto e in visione. Grazie mille. Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Luciano De Propris e proverò a condividervi un po' di pensieri che mi hanno guidato in questi anni. Mi piace definirmi metà ingegnere, metà designer. quel mondo di mezzo che va tra il disegnare e il fare. Appassionato da sempre di costruzioni, da quando ero piccolo. costruivo in continuazione e mi appassionavano a tal punto di non dormire. Stavo in piedi ore ed ore con quei mattoncini lego tutti colorati, tutti diversi. E mi piaceva una cosa in particolare. Mi piaceva non fare la costruzione che era riportata nella scatola, quanto mischiare tutte le costruzioni e inventare nuove strutture, nuove forme. Più colorate, più diverse. E poi mi piaceva condividerla con altri, quindi non mi piaceva farlo da solo, perché a molti le costruzioni mi piaceva fare da soli. A me mi faceva impazzire chiamare degli amici e ognuno mettere un pezzo e poi costruire la città e poi costruire la città più grande e poi pensare come allargarla. Allora prendo un pezzo di legno, ci costruisco la montagna e così. Ecco, questo me lo porto dentro, forse me lo sono portato dentro e ancora adesso un po' mi segue. Quindi ho studiato materie scientifiche, ho studiato ingegneria, mi sono specializzato in questo, sono andato fuori e poi la prima occasione per me è stata lavorare appunto come ricercatore. Ho fatto il ricercatore vari anni e quindi il laboratorio un po' riprovavo a costruire pezzi. Finché sono approdato al Ministero dell'Ambiento, ho avuto questa grande fortuna di vedere un mondo molto complesso, molto difficile, dove però si alternavano i buoni e i cattivi, il bianco e il nero, le grandi aziende da una parte e l'ambiente dall'altra. E questi due mondi non si parlavano, si parlavano molto poco o si parlavano tramite dei legali che si scrivevano delle lettere per dire quanto uno era buono o quanto uno era cattivo. E quindi ho passato tanto a rimuginare un po' su questo, nel capire perché questi due mondi non potessero trovare una connessione logica, non potessero fare cose insieme, non potessero costruire pezzi della costruzione insieme. E qua ho passato vari anni, poi appunto a un certo punto ho provato a rompere un pochino gli schemi e a dire ok, esco da questo meccanismo e faccio io qualcosa di innovativo, qualcosa di nuovo. E quindi mi sono lanciato in questo mondo un po' particolare che oggi viene definito il mondo startupparo con una parola un po' strana, fare start up, inventare qualcosa di nuovo, una nuova azienda, una nuova tecnologia. E quindi ho ricominciato a costruire, ho costruito tecnologia, ho brevettato tecnologia, siamo diventati 5, 10, ci siamo allargati, però anche questo alla fine non mi riusciva a dare quel senso di riuscire a impattare veramente su qualche cosa. Finché a un certo punto, bene o male, siamo arrivati che avevo quasi 40 anni, non è tantissimo tempo fa, un amico mi dice guarda vieni in un posto un po' particolare perché credo che per te quel posto ti può dare delle nuove sfide e mi portano, qua fortunatamente prima c'era il mio direttore di ELIS che è la prima persona che ho incontrato quando sono entrato in questo magico mondo. mi hanno detto guarda c'è un mondo che si chiama ELIS che è tante cose, ma è anche un consorzio di grandi aziende che però hanno una finalità di fare innovazione e impatto sociale. Ammazza, una figata questo posto. Quindi vado lì e trovo questo consorzio, 100 grandi aziende che stanno insieme dal 1992 per fare innovazione collaborativa, curare gap di formazione e generare impatto sociale. Ho detto mamma mia questo è il mio posto. Quindi sono arrivato lì e mi sono iniziato a far raccontare un po' la storia e Pierluigi l'avete visto prima che è prima di tutto uno storyteller, mi ha raccontato questa storia bellissima che mi ha coinvolto, che è appunto un grande centro di formazione professionale che insegna ai ragazzi un qualcosa di concreto, di pratico, di reale, che si trasforma nel 92. C'erano tre grandi aziende, all'epoca Ericsson, Stetti e Talcementi, che si mettono insieme e costruiscono un consorzio perché stava arrivando internet, internet nel business. loro che ci vedevano un po' più in là degli altri dicono questa tecnologia cambierà la nostra società, cambierà il mondo, cambierà le nostre aziende e ebbero un'intuizione per me geniale nel 92. Prendere un centro di formazione e farci quello che oggi chiameremo con una parola un po' più fighetta, un think tank, no? Però all'epoca fecero una società consortile senza finalità di lucro. I tre amministratori delegati si domandarono ma internet domani mattina che cosa ci possiamo fare con questo internet? E poi le persone che stanno nelle nostre aziende non lo sanno utilizzare internet. Quindi iniziò tutta una fase di formazione tra loro per capire che cosa avrebbe cambiato questa tecnologia e come le persone sia dell'azienda sia il resto del mondo sarebbe stata impattata da questa tecnologia. E quindi fondano un consorzio per ragionare di questo. Facile, un consorzio, erano in tre, tre amministratori delegati si vedevano a cena il mercoledì sera e presto fatto. Però iniziano a ragionare, scrivono dei fogli per dire ma le persone dovrebbero sapere di questo, di questo, di questo, di questo e le iniziano a formare. E se le iniziano a portare in azienda, iniziano a formare le loro persone e man mano si sparge la voce e la quarta azienda, la quinta azienda dice ma questa cosa è una figata, voglio entrare anch'io, voglio entrare anch'io. Ve la faccio breve, dal 92 a oggi le aziende sono diventate 125 le grandi, quindi grandi brand, Enel, Eni, Poste, Autostrade, Ferrovia, Generali, DHL, Sky prendete le 100 grandi stanno più o meno nel consorzio e avevano la logica di dire facciamo tra di noi innovazione collaborativa e impatto. Certo non è facile perché finché siamo in tre pure pure ma quando diventiamo 10, 15, 20, 50, 70, 100 la cosa non è così scontata. Intanto scelsero un meccanismo che a me ha affascinato perché ho sempre studiato modelli all'università studiavo modelli per scalarli farli diventare sempre più grandi cioè capire qual era l'essenza e poterla ampliare e loro dissero facciamo una cosa per far funzionare questo consorzio di aziende questo agglomerato facciamo che ognuno si prende la responsabilità a girare cioè oggi faccio io il presidente fra sei mesi lo fai tu fra sei mesi lo fai tu e ragioniamo sempre di una tematica comune un grande progetto che si danno come obiettivo quello di avere di fare dei grandi progetti molto concreti cioè non ci vediamo e parliamo ma vediamo, ci vediamo, parliamo, disegniamo e attuiamo dei grandi progetti operativi quindi decidono queste due cose uno di fare questa presidenza a girare a oggi il consorzio ancora funziona così ogni sei mesi cambia la presidenza e diventa presidente uno degli amministratori delegati di queste grandi società che propone un tema e gli altri ne discutono e poi mettono a terra dei progetti reali e concreti lo fanno dal 92 quindi sono passati più di 30 anni e questa cosa appunto mi aveva affascinato perché in 30 anni hanno realizzato tantissimi progetti ve ne cito solamente alcuni ma per farvi capire di cosa si parla uno degli ultimi semestri hanno creato un nuovo liceo si chiama TRED un liceo per la transizione ecologica e digitale cioè i grandi hanno detto il mondo sta cambiando tutti parlano di transizione ecologica e digitale i nostri ragazzi non sono pronti ad affrontare queste sfide non partiamo dall'università partiamo da una parte più bassa e quindi hanno costruito un nuovo modello che è un nuovo modello fisico digitale quindi è stato realizzato proprio un liceo esistono oggi dei licei in Italia col brand appunto Ministero dell'Istruzione e la Ricerca che ha accreditato questo nuovo modello che è un modello che ha una parte fisica quindi studiano materie scientifiche con l'inserimento di alcune materie umanistiche ma con molte materie particolarmente riferite alla transizione ecologica e digitale in cui le aziende diventano dei docenti dei ragazzi quindi glielo raccontano loro che cosa significa fare transizione ecologica e digitale e in più che cosa hanno fatto? hanno scelto che il digitale che è una piattaforma abilitante potesse dar modo a questi ragazzi di fare delle interclassi cioè quando io sto nel liceo che sta in Puglia in Trentino, in Veneto, in Liguria anche nei posti più interni forse che non sono solamente Roma, Milano i grandi centri posso decidere di iscrivermi a una materia particolare idrogeno idrogeno è seguita per dire da una persona di Enel che è un professionista che fa questo e la classe si compone in digitale di tutti i ragazzi che vengono da tutta Italia quindi compongo una classe che ha vari ragazzi e varie cose questo è per dirvi uno di queste progettualità ogni sei mesi cambia il presidente e cambia il progetto io arrivo in questo modello formativo nel 2017 all'epoca il presidente era Gianni Armani non lo stilista ma all'epoca era il presidente di Anas che il primo giorno in cui arrivo appunto iniziamo a dialogare perché lui aveva un'idea disse per me il nostro gruppo è un gruppo che può fare tanto in innovazione ma è un gruppo che invece non la sta adottando questa cosa qua e quindi dice come possiamo sviluppare un modello di innovazione collaborativa tra tutte queste grandi aziende come possiamo imparare l'uno dall'altro a fare questa cosa qui e quindi ci mettemmo a scrivere la cosa bella è che gli amministratori delegati in questo consorzio utilizzano questa fase proprio di design quindi si mettono seduti e iniziano a dettare quello che potrebbero essere le logiche di funzionamento per lavorare insieme e l'idea era quella che l'innovazione potesse essere un fattore abilitante per l'ecosistema Italia e allora dissero ma scusa chi è che sta più avanti Cisco che aveva cose già fatte in America aveva già un passato Enel che stava facendo dei passi in avanti iniziarono a condividere tra di loro come montare un modello di innovazione collaborativa che facesse uscire le grandi aziende dalla referenzialità dei grandi cioè che spezzasse quel meccanismo normalmente che avevano sempre utilizzato di ricerca interna cioè andare a trovare la soluzione dal proprio interno e dissero ma se io ho un problema perché non apro questa problematica a tutti quelli che me lo possono risolvere su scala nazionale ricercatori, giovani talenti, start up persone che hanno delle idee che mi possono proporre e se lo facciamo tutti insieme diventa un'operazione da sistema paese quindi ci mettiamo là e disegniamo questa cosa qua disegniamo un programma che ha preso un nome perché appunto una delle persone che poi era il capo innovazione di Enel a suo tempo e ci diede questo nome che fu appunto Open Italy un grande progetto di innovazione collaborativa tutte le grandi aziende fanno all'inizio dell'anno raccolgono quelli che sono i loro fabbisogni che cosa cercano queste grandi aziende? parliamo delle grandi aziende che sono un po' il backbone del paese un po' l'ossatura del paese fanno tutto dall'autostrada alle ferrovie dalle poste alla gestione dell'energia quindi rappresentano gran parte ci raccontano tutte quelle che sono le sfide che loro affronteranno nei prossimi cinque anni e noi le pubblichiamo in una grande bacheca digitale che apriamo a tutto l'ecosistema nazionale e internazionale prevalentemente nazionale perché volevamo far sì che l'innovazione in Italia che ancora sta a cinque volte indietro la Francia dieci volte indietro UK per non parlare di Silicon Valley e Israele potesse fare un balzo in avanti potesse diventare un abilitatore per tutto il sistema Italia e quindi all'inizio dell'anno condividiamo queste sfide le mettiamo su una piattaforma digitale e tutti le possono vedere quindi entrare, candidare delle proposte di soluzione a un certo punto si incontrano queste proposte di soluzione del ricercatore di Reggio Calabria che ha una soluzione fantastica per il viadotto di Anas o il ricercatore del Trentino che ha una soluzione perfetta sul nuovo sistema di gasificazione di Snam le mettiamo in contatto questi si incontrano realizziamo dei prototipi puntuali e poi li scaliamo ecco, questo modello mi ricordava molto le mie costruzioni di un tempo cioè tanti che si mettono insieme e condividono un modello che può essere scalato sul sistema nazionale e che metteva in connessione le grandi aziende del paese che normalmente avevano sempre avuto dei dipartimenti di ricerca e sviluppo molto forti con tutta l'intelligenza che invece è diffusa di ragazzi, di appunto ricercatori di nuovi imprenditori di soluzioni innovative che invece è radicato in tutto il sistema paese ma che non si incontrava con queste grandi quindi si crea questa connessione e si creano tantissime cose nuove che vengono adottate su questo sistema questo lo portiamo avanti dal 2017 fino ad oggi avremo fatto 300 iniziative di innovazione e ha portato un nuovo sistema sul modello Italia che ha abilitato sempre di più questo modello di innovazione collaborativa cioè far sì che un giovane ricercatore o una giovane azienda innovativa si mettesse in contatto con una grande per poi diventare un loro fornitore e quindi avere fatturato e quindi crescere e quindi fare tutto un sistema di scaling del sistema industriale questa cosa qua mi aveva talmente affascinato ma tutte le volte mi domandavo ma c'è però un qualcosa che mi manca molte volte su questo che era una dinamica di impatto cioè molte volte tutte queste azioni che venivano fatte tutte queste progettualità venivano fatte quasi tutte business to business come diremmo in gergo cioè per risparmiare un po' di soldi o per farne un po' di più tutto sano tutto lecito però manca sempre un pezzo che era un po' il modello su come farlo mi piaceva molto aver collegato due mondi che non si parlavano che si parlavano poco e questa era una cosa che mi appassionava e allora abbiamo iniziato a pensare come cercare di massimizzare l'impatto che questa operazione potesse dare avevamo portato un contatto da giovani imprese imprese a imprese grandi avevamo portato delle risorse dei grandi ad andare su delle risorse piccoli per farli crescere in più ci abbiamo iniziato a mettere che in queste progettualità innovative abbiamo coinvolto dei giovani talenti quindi abbiamo fatto ogni volta una chiamata un po' per delle persone che volevano sperimentarsi su queste progettualità e gli abbiamo dato molte volte delle occasioni sono tornati molti che studiavano appunto in UK in Francia in Germania che affascinati da questi progetti sono rientrati per lavorare su questi e poi sono rimasti qui quindi questo è stato un po' l'inserimento ma mancava sempre un pezzo molte volte questi progetti hanno un'attuazione di impatto sul territorio un giorno fortunatamente ricevo una chiamata anzi neanche una chiamata mi arriva una notifica su LinkedIn e stava sempre su questo parco la cosa particolare non l'abbiamo fatto apposta ma era il direttore della fondazione oggi Cari Verona aveva il cappello della fondazione Cari Tro che mi scrive mi scrive buonasera ho visto il programma Open Italy ho visto un intervento mi piacerebbe conoscerla benissimo ci incontriamo quindi vengo a Trento ci incontriamo e lui mi dice guarda io vorrei fare la stessa cosa che voi fate tra le grandi aziende e le start-up innovative però la vorrei fare sul territorio la vorrei fare per il mio tessuto sociale e quindi abbassare di un livello e portare questa innovazione sul territorio e io dico mi sembra una sfida perfetta perché quello che mancava era proprio l'impatto sui territori l'impatto sulla società cioè come queste tipologie di soluzioni innovative potessero poi avere una rigatuta di impatto per un pubblico ampio e quindi iniziamo a lavorare iniziamo a lavorare e io la prima cosa che gli dico è però proviamo a fare un test ma che non sia un test proprio stretto appunto solamente su Trento e lui mi dice ma già noi siamo Trento e Rovereto bene però dico perché non chiamiamo anche qualcuno vicino così in Veneto ah potremmo chiamare Cari Verona quindi chiama Cari Verona poi chiama Cari Paro dove è Rovigo e man mano ci allarghiamo quasi su tutto il Triveneto e iniziamo a fare questo esperimento cioè portare lo stesso modello di innovazione collaborativa fatta dalle grandi corporation con le start-up innovative sul territorio e quindi lanciamo delle sfide che erano delle sfide che le fondazioni conoscevano bene e quindi parliamo di molte volte di sesso idrogeologico dei territori quindi molte volte sappiamo che queste cose qua non sono proprio delle cose un po' sventolate dai giornali le vediamo tutti i giorni adesso ogni volta che piove dobbiamo avere paura che succeda qualche evento tragico quindi e sono esigenze molto sentite dalle persone che poi abitano questi posti piuttosto che parliamo di istruzione formazione specialistica formazione professionale parliamo di mismatch no? molte volte cerchiamo 5.000 persone che non troviamo e poi abbiamo 2 milioni di NIT che invece non studiano e non lavorano piuttosto che altre di queste sfide e quindi ci siamo messi là e abbiamo detto ma veramente se le grandi aziende le fondazioni di origine bancaria i giovani talenti e le imprese innovative si mettessero insieme su sfide comuni potremmo lanciare un sistema che può avere un impatto ancora maggiore e quindi abbiamo iniziato a provare a fare questo tipo di lavoro gli abbiamo dato un nome perché appunto riguardava il modello di essere aperti delle fondazioni e un po' di avere un po' una bottega come se fosse una piccola bottega rinascimentale dove potevamo montare pezzi diversi l'abbiamo chiamata Foundation Open Factory e siamo partiti qua sul Triveneto a fare questo tipo di lavoro per come la vedo io per me sono sempre le mie costruzioni solo che sono costruzioni con stakeholder sociali stakeholder di territorio chi poi normalmente vive il sistema economico quindi aziende giovani innovatori fondazioni no profit imprese sociali però sempre di questo parliamo come riusciamo a montare i pezzi e come componiamo queste nuove strutture sociali e quindi abbiamo iniziato a lavorare su delle grandi sfide sociali siamo partiti e ve ne racconto solamente una perché uno dei temi era in Triveneto il tema dello spopolamento della montagna cioè man mano stiamo perdendo persone che stanno andando via dai luoghi di montagna per tanti motivi perché i servizi diventano più difficili perché la sanità si sposta su dei centri più grandi perché gli eventi meteoclimatici diventano più particolareggiati e quindi c'è questo spopolamento ad esempio del sistema di montagne e c'è un problema anche legato al distesso idrogeologico è una sfida che ci siamo dati e qua sul Triveneto ci siamo interrogati sì abbiamo mappato un pochino la montagna ci siamo accorti che qua in Triveneto c'è forse una delle cose più belle al mondo che sono le Dolomiti e partono proprio dal Trentino e arrivano fino al Friuli Venezia Giulia passando per il Veneto e quindi abbiamo detto ma perché non lavoriamo sul sistema Dolomiti creando quello che abbiamo chiamato essere Dolomiti Innovation Valley sono solamente dei format come se creassimo delle scatole di Lego diverse e dentro ci mettiamo i vari pezzi abbiamo costruito questa progettualità per fare un ragionamento su come l'innovazione può apportare dei miglioramenti in questi sistemi stiamo perdendo giovani in montagna stiamo avendo problemi di meteo e di clima abbiamo problemi con la sanità nel senso che le persone anziane a un certo punto sono costrette ad andare via perché non hanno i servizi necessari per stare lì molte volte abbiamo problemi di mobilità ci devo arrivare in quel posto e devo tornare indietro ok se non riusciamo ad affrontare queste sfide questi posti stanno perdendo continuamente persone e quindi abbiamo iniziato a fare dei ragionamenti il primo è stato sul dissesto idrogeologico quando siamo arrivati intorno a Cortina nella valle che porta da Longarone a Cortina forse qui che non siete tanto lontani conoscete meglio di me il posto ci hanno raccontato di questa valle che è bellissima che però appunto ogni tanto cadeva un pezzo da una parte cadeva un pezzo all'altra e parlando proprio con gli enti del territorio ci siamo accorti di come il sistema del monitoraggio dei sistemi ambientali fosse così importante per quel tipo di territorio allora ci siamo interrogati abbiamo chiesto all'interno dei nostri stakeholder uno di questi era Anas che ha una grande strada 80 km la gestisce Anas che aveva fatto questa infrastruttura che chiama Smart Road che cos'è? troverete dei pali uno ogni 300 metri per chi va in montagna e arriva a Cortina ogni tanto vede questi pali con una lucetta verde bianca e rossa avanti tutti si domandano se c'è un autovelox montato vi dico che non c'è poi domani forse ci potrà anche essere ma per oggi non c'è e è una strada che la rende digitale l'hanno fatta perché fra poco si immaginano di far correre la macchina direttamente come una guida autonoma per adesso non c'è ancora la guida autonoma ma si stanno sperimentando questi sistemi unica in Europa allora avevamo questa grande infrastruttura di Anas abbiamo chiesto ma ci sono soluzioni innovative che ci possono aiutare per il discesso idrogeologico in montagna ci hanno fatto candidatura abbiamo avuto 300 candidature da tutta Italia ricercatori giovani innovatori PMI tutti alla fine è stata scelta una realtà uno spin off di Padova la cito che si chiama FinUp due ragazzi fisica nucleare hanno creato un modello per analizzare l'acqua nei primi 50 cm di suolo e dirci quando quest'acqua ha imbevuto talmente tanto il terreno che potrebbe franare l'abbiamo sperimentata su due posti montandolo su questa smart road a un certo punto ci siamo accorti che questi dati erano preziosissimi siamo andati alla protezione civile e gli abbiamo detto ma ti potrebbero interessare questi dati la protezione civile ha detto mi cambierebbe il mondo avere questi dati ma se te li mettiamo su tutti 80 km mi avete risolto tanti problemi e quindi che cosa abbiamo fatto siamo andati a metterli man mano che cosa vi voglio dire con questo abbiamo messo solamente insieme una grande azienda a questo progetto ha collaborato la provincia di Belluno ha collaborato la Confindustria Belluno hanno collaborato i parchi scientifici del territorio le fondazioni e alcune di queste realtà e abbiamo dato i dati al gestore finale che è la protezione civile Anas ha guadagnato perché avendo un sistema di monitoraggio evita che possano accadere eventi disastrosi sulla sua strada la protezione civile ha avuto un sistema di monitoraggio in più i comuni hanno dei dati che non avevano i cittadini hanno un sistema di alerting che non avevano la start up che è venuta a fare questo progetto ha fatto il progetto ha ricevuto una prima commessa ha oggi una seconda grande commessa è arrivato un fondo che si chiama CDP Venture Capital che ha investito 5 milioni su questa realtà e i ragazzi sono diventati dai 10 ricercatori dell'Università di Padova un gruppo importante che mi auguro possa fare nel prossimo futuro tante cose non abbiamo fatto nient'altro che giocare a montare i nostri pezzetti ma con una finalità di impatto ecco questo per me significa fare futuro cioè mettersi là e costruire pezzetto su pezzetto nuovi modelli di economia sociale dove grandi aziende fondazione regine bancaria start up innovative giovani talenti possano giocare la stessa partita per portare un po' più di valore sul sistema Italia grazie mille grazie mille grazie mille